Sono venuto qui a nome di Don Minzoni e di tutta la comunità argentana per comunicarvi che si è deciso di creare un doposcuola, un reparto scoutista cattolico. Saremmo ben contenti di vedervi nel nostro ricreatorio. Ma cos'è uno scherzo? Volete giocare col fuoco? Io non approverò mai un gruppo scoutista nato da un'idea di Don Minzoni. E ora vattene. Vattene. A che gioco stanno giocando? Vogliono lentamente sconfiggerci. Ecco cosa vogliono. Evitando lo scontro ma buggerandoci per bene. Vogliono dimostrare di essere i più forti, di essere loro quelli che decidono. Augusto, eri qui? Sono giorni che non torno a casa. E se invece fosse un tentativo di riappacificare gli animi? Il prete è un egoista, pensa solo ai suoi interessi. Non cadiamo in questo tranello. Non dimentichiamocelo mai chi siamo noi. Ci andremo al ricreatorio. Ci andremo. A modo nostro. I ragazzi qui si stanno divertendo parecchio. E ne sono felice. Per questo abbiamo deciso di inaugurare un nuovo reparto scout che aprirà la prossima settimana. un reparto scout. Ma guarda un po'. Proprio quando noi proponiamo l'avanguardia. Ho fatto solo quello che la gente chiede. Attraverso questo gruppo abbiamo l'intenzione di formare degli uomini forti, coraggiosi. Guarda che per questo c'è già Mussolini. Lì vestiremo con la cravatta azzurra e marceranno per le strade della nostra argenta. Sarà un evento molto importante. Prete! Cos'è se è diventato sordo? Non la senti la mia voce? La sento, la sento bene. E allora sappi che non marceranno da nessuna parte. Finché ci sarò io marceranno in piazza in nome di Dio!